Una rete per coordinare le diverse realtà del territorio su un tema sempre attuale come la sicurezza sui luoghi di lavoro. A Villare Calcati si sono insediati tre tavoli istituzionali sotto la regia della prefettura di Varese. Si condividono i dati di cui si è in possesso, si mettono in luce i punti di forza e li si mettono a disposizione di tutti gli altri soggetti che hanno le competenze in questa materia. Si lavorerà a luglio ed agosto, a settembre ci rivediamo in plenaria e tra le altre cose programmeremo tutte le iniziative che possono essere attuate in vista della settimana europea diretta alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Analisi dei dati, comunicazione, divulgazione e formazione e infine le buone prassi, questi gli argomenti dei tre tavoli che si sono insediati. Oltre alle istituzioni sono coinvolti anche i sindacati, presenti tre segretari confederali che hanno sottolineato l'importanza di prevenzione e controlli. Oggi giornata molto importante, c'è stato questo primo incontro operativo su questa proposta che collettivamente come CGL e CISLUIL abbiamo fatto alle diverse parti sociali presenti sul territorio in tema di prevenzione e di infortuni. È un momento molto importante che diventerà e proporrà aspetti, strade operative e quindi anche progetti. Ringraziamo sicuramente l'interessamento del prefetto che per la prima volta, dobbiamo dirlo, abbiamo visto una riunione davvero operativa. Infine farà la sua parte anche il mondo dell'impresa con la partecipazione dell'associazione di categoria del territorio di Varese. Il mondo imprenditoriale è sicuramente protagonista sul tema della sicurezza sul lavoro. Noi ci occuperemo in particolare della lettura e dell'analisi dei dati perché è nel DNA della Camera di Commercio conoscere per poter poi pianificare le azioni migliori.